Se siete alla ricerca di nuovi giochi ma non volete spendere troppo su G2A trovate un sacco di sconti di offerte Vi lascio il link qui sotto in descrizione Penso che YouTube sia l'apoteosi dei titoli clickbait e mi sono detto No, no, non hai letto i quotidiani, cioè neanche lego i quotidiani Beh effettivamente è libero con il sport da calcio, è vero, effettivamente hai ragione Guarda il mondo del calcio, tutto sport e gazzetta hanno solo da insegnare E mi sono chiesto, ma se facessero i film con i titoli clickbait Ma non basta il trailer, già quello solitamente è bait Sì ma pensa ancora di più tipo il titolo Che Birdman fosse un supereroe e mi aspettavo un film di supereroi e mi hanno clickbaitato col titolo Invece cos'è scusa? Eh Birdman è tipo un film straserio Non è di supereroi? No Allora non lo guardo se non ci sono i supereroi, cioè Beh il problema è che io me ne sono accorto alla fine che non era di supereroi Cioè io stavo aspettando e questo qui Dai, oh fai, trasformati, vola, fai qualcosa No, niente Ma come puoi chiamare un film Birdman e non essere un supereroe? Beh, è sicuramente se verrai più sfigato di tutti Birdman È per succello Oddio, non che acqua menzze tanto meglio Comunque ad esempio, Titanic, se te l'avessero proposto come Flip Ship Challenge Non l'avrei aperto Dai, ce l'ho io Harry Potter e la pietra pazza sgravata che non ti fa morire manco se ci provi Cioè che la vecchiaia non esiste proprio Comunque avevo chiesto anche di farmi degli esempi Adesso vediamo Sicuramente sono più brutti dei nostri, no? Vabbè Può essere Titolo di YouTube Mago di strada fa trick e cammina sull'acqua La Bibbia Gesù di Nazareth Clown mi spara in faccia live Non è uno scherzo Joker Avevo letto un clown mi spara in faccia in live E ho pensato Full Metal Jacket Questo qua è carino È stra spoiler ma è carino Assassinio sull'Oriente Express Among Us ma con 13 impostori È un po' spoiler Che bello Lo facciamo in Among Us in cui trolliamo una persona e mettiamo 9 impostori senza che lo sappia Eh ma c'è il massimo a 3 Ah Fuck C'è stato bellissimo Tipo fai like un'Ovil Non ti puoi uccidere da solo Eh no L'assassino non si possono uccidere la vicenda Non so ma quello che non sa che ci sono 9 assassini Sai che passa tutto il tempo a dire Mi fido di questo, mi fido di quello, quello, l'assassino Quello, no Quello, quello, quello Ritorno al futuro Torniamo indietro nel tempo e scoppiamo nostra madre E poi come titolo di YouTube non monetizzerebbe Deve essere clickbait Non monetizzato Deveva fare tipo Sono mio padre Una roba del genere Ma quasi scopato mia mamma Ashtag pericoloso Vlog Da nord a sud con una gamba Perché imparo l'alfabeto con Mohamed Doveva essere V per vendetta Perché V sta per vendetta Vendetta vera È una battuta brutta È tipo A per aereo B per banano B per ban Provo a scappare dalla mia famiglia in affido Finito malissimo Harry Potter Harry Potter è da molto spunto Eh sì, ne da, ne da molte, ne da molte Raga non potete capire la trottola gira all'infinito 1 punto esclavativo 1 Inception La trottola che non smette mai di girare Ma sai che io ci guardo come video di Stormy La trottola che non si ferma mai Ci metteria a guardarla 8 giorni Endgame Reactions ai miei vecchi video Bella Questa è una bella coltrata Me l'ero persa Ah, questa qua era bello Io i miei broschi sconfiggiamo un pelatone viola Finito male Endgame Fast and Furious Gare malate epiche Le strogo corse Matrix Un nero mi ha dato una pillola strana Finito male ho rischiato la vita Interstellar Abbandono mia figlia a casa per andare in viaggio Lui parte per lo spazio e lascia la bambina E tipo lei invecchia tantissimo quando lui ritorna E immagina Direnmente tipo 60 seconds Livello sgravato, epico, impossibile Io sono leggenda Cosa vuoi salvare? Tua moglie Tua figlia Tua figlio Il cane Il pastore tedesco Terminator Faccio il juggernaut contro i miei amici pericoloso Maze Runner Vivi nel labirinto coi mostri di satana Ma no ragazzi Maze Runner è Battle Royale coi miei amici nel labirinto La passione di Cristo A cena con la crew Fit romani Costoso Vi prego Se mai ci sarà la scissione della crew Fatelo con tutti seduti al tavolo Con uno di voi signori Mi tradirà Civil War Battaglia Nerf in un aeroporto Quando chiami il tuo cuginetto che ci gioca sempre Di Boragno Una notte al museo potrebbe essere tranquillamente un video di Anthony di Francesco Ecco chi è che era Mi fingo ebrea Scherzo epico finito male Il diario di Anna Frank Potremmo farlo col bambino col pigiama a righe La cosplay challenge O no Mi dissocio Rivelo a mio figlio di essere suo padre Finito male Epico star wars Ciao bimbo Sei vissuto qui in casa con noi per anni ormai Devo dirti una cosa Sono tuo padre Mi sono una marionetta Cinepanettoni Prova a non ridere Non volano frecciatire Volano tronchi Prova a ridere Prova a ridere challenge Mi fingo uno di loro Scherzo epico Finito male Il bambino con il pigiama a righe Mi ricorda molto un video di Rust Per l'arbo Rouse bucket challenge Ma al posto del secchio dell'acqua Ci mette una bomba Ok no A 50.000 like Pulp fiction Advertisement That's how mafia works Giustamente abbiamo anche pubblicità Sponsorizzazione Bambini vengono maltrattati da un uomo che parla con dei nani Ma briga di cioccolato O è da social boom O è da breaking italy Dipende Inception Registro me stesso mentre dormo Quasi morto Entrano ladri Entrano ladri in casa Di carta Mentre guardo MotoGP Entrano i ladri in casa Di carta Di carta Mi derubano il mio castello fatto di scatoloni Casa di carta Scontro epico contro tutta la lobby Nei server delle termofili 300 300 versus 10.000 Io e il mio clan contro tutto il server Raga il mio calice ha preso fuoco Enrico Pentolaio mi aiuta a spegnerlo Ho finito male Harry Potter Enrico Pentolaio Più basaio che pentolaio Inception long lasting beyblade challenge Ha 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 il red stronger Inito bu Anziata Qui sono bellissimi da vedere Quando il mondiale di beyblade Arriba di caprio Fa così E tutti vi Via Vi via! via! ho preso l'ads non è uno scherzo buonan rhapsody questo ha fatto male qua un alieno entra in casa mia a luna di notte mentre gioco a moto gp non è uno scherzo epico e ti? faccio 30 bombe in afghanistan con il cecchino american sniper clara vi ha detto che american sniper è un brutto film perché uccidono un bambino amore è un belfi? no è brutto perché uccidono un bambino dimmi un film horror che c'hai in una foresta yukai la foresta dei suicidi ho trovato un morto nella foresta vlog in giappone reaction alla reaction alla reaction alla reaction del mio sogno inception c'è anche mi riprendo mentre dormo mentre mi riprendo mentre dormo mentre mi riprendo mentre dormo mentre mi riprendo mentre dormo sempre c'è sempre c'era bellissima per i titoli entriamo nei vostri mondi di nascosto epico rischioso è un video di minecraft è capo bastone che fa il griffin con la lava gli unici video di minecraft che ho visto in vita mia è un secchio di lava e un server di ragazzi di 14 anni distrutto io se stasera sogno qualcuno che mi dice gaga gaga mi sveglio di botto e basta costruiamo un'armatura da supereroe metallo five minutes craft iron man però con sotto musiche di tipo ping 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 di dream ecco 21 blackjack si sarebbe potuto chiamare il raddoppio è il video quello di luisa quasi amici no I paralyzed myself in honor of steven hawking qui c'è un po di gente che si offende space jam divento brava basket metodo napoletano perché rubano i poteri Rondelle scossa elettrica finita male film il miglio verde non l'ho visto come no è capolavoro alla fine lui viene ciro sulla sedia elettrica cazzo dello spalle ma la mano come più o meno tutti gli altri personaggi io e i miei amici proviamo la chubby bunny con i villaggi attacco un titan prova non dire parola bannabile con la n finito male Django penso che Django insieme a full metal jacket sia uno di quei film che non puoi vedere su twitch coca-cola e mentos ho sbagliato le caramelle una notte da leoni c'hai dato rufis che cosa